capitolo 10 la nostra prima notte sotto la tela si domanda aiuto malignità del calderino come vincerla la cena come sentirsi virtuosi occorre una bella isola deserta bene equipaggiata e prosciugata preferibilmente in vicinanza dell'oceano meridionale cose buffe accadute al padre di giorgio una notte irrequieta harris e io cominciamo a pensare che alla chiusa di belle fosse successa la stessa cosa giorgio ci aveva tirati al rimorchio fino a steins e c'eravamo già allontanati di lì e sembrava che ci portassimo dietro 50 tonnellate dopo aver viaggiato per 40 miglia erano le sette e mezza quando ci fermammo e tutti e tre entro la barca remammo fino alla riva sinistra cercando un punto da ormeggiarci avevamo prima l'intenzione d'arrivare all'isola della magna carta una graziosa parte del fiume dove esso serpeggia per una bella vallata verde ed accamparci in una delle molte pittoresche rade che si trovano su quella sponda ma a ogni modo non avevamo tanto desiderio del pittoresco come la mattina presto un tratto d'acqua fra un trasporto di carbone delle officine di gas quella sera ci avrebbe più che soddisfatti non avevamo bisogno di paesaggio volevamo cenare e andare a letto però remammo fino a un punto che si chiama il picnic point e ci fermammo in un angoletto sotto un olmo gigantesco alle bene espanse radici del quale legammo la barca allora pensammo di prepararci da cena avevamo rinunziato al tè per risparmiar tempo ma giorgio disse di no era meglio prima che si facesse buio mentre si poteva vedere ciò che si faceva stendere la tela e allora fatto ciò che era necessario fare potevamo sederci a mangiare in pace per mettere a posto quella tela ci volle molto più di quanto ciascuno di noi avesse mai immaginato la cosa sembrava così semplice in astratto si prendevano cinque archi di ferro come quelli ma molto più grandi del gioco del croquet si piantavano in giro alla barca e su di essi si stendeva la tela che poi si legava in basso si pensava che non ci occorressero neanche una diecina di minuti e si credeva di concedere troppo prendemmo i ferri e cominciamo per fissarli negli incastri pronti a riceverli voi non immaginate che questa sia un'operazione pericolosa ma ora che ci ripenso mi meraviglio che ci sia ancora qualcuno vivo a raccontarla non erano archi di ferro quelli erano demoni prima di tutto non volevano entrare negli incastri e noi dovemmo saltare su di essi prenderli a calci martellarli con la gaffa e dopo che furono incastrati ci accorgemmo che avevamo scambiato gli incastri forzando i ferri dove non sarebbero dovuti entrare e dovemmo cominciare da capo ma essi non volevano più uscire e quando in due ci eravamo accaniti a lottare per cinque minuti un tratto balzavano improvvisamente tentando di scagliarci nell'acqua e farci annegare avevano una specie di cardini nel mezzo e quando non ci si badava con essi ci addentavano nelle parti delicate del corpo e mentre stavamo lottando con un lato dell'arco e ci sforzavamo di persuaderlo a fare il suo dovere l'altro lato ci assaltava codardamente e ci colpiva in testa finimmo poi con l'incastrarli e quindi non c'era da far altro che disporre la copertura giorgio la svolse e ne legò un capo alla prua della barca harry se stava nel mezzo per prenderla da giorgio e svolgerla fino a me e io per riceverla mi tenevo presso la poppa ci volle parecchio prima che giungesse a me giorgio fece la sua parte benissimo ma era un'operazione nuova per harrys e allora venne il guaio io non so dire come facesse e neppur lui poté spiegarmelo ma per chi sa mai quale misterioso processo egli riuscì dopo dieci minuti di sforzo sovrumano col trovarsi completamente avvolto nella tela era così saldamente stretto imprigionato e fasciato che non poteva più uscirne naturalmente faceva dei frenetici sforzi per la conquista della libertà il diritto di nascita di tutti gli inglesi e nei suoi sforzi la presi dopo stramazzò su giorgio e allora giorgio imprecando ad harrys cominciò a divincolarsi per finir poi col trovarsi impigliato e avviluppato anche lui in quel momento non m'ero accorto di nulla anche perché neppure io mi intendevo della faccenda ma avevano detto di stare dove mi trovavo ed aspettare che la tela arrivasse fino a me e monmorensi e io eravamo rimasti ad attendere fedeli alla consegna potemmo scorgere la tela violentemente sbattuta e agitata con abbastanza evidenza ma credevamo che questo facesse parte dell'operazione e non intervenimmo udimo anche delle espressioni molto soffocate uscir di sotto la tela e indovinammo che gli amici trovavano qualche difficoltà nel lavoro ma concludemmo che dovevamo aspettare che le cose si semplificassero un po prima di offrire la nostra cooperazione attendemmo un poco ma sembrava che la faccenda si complicasse sempre più e finalmente la testa di apparve alla vista contorcendosi sul fianco della barca e gridando diceva corri a dare una mano qui brutto animale e non startere come una mummia imbalsamata quando ci vedi tutti e due soffocati bestia che non sei altro io che non ho mai resistito a un grido di soccorso mi slanciai a liberarli non prima però che Harris apparisse in faccia quasi paonazzo ci volle mezz'ora di fatica intensa perché la tela fosse a posto e poi sgombrammo il ponte e ci disponemmo a preparare la cena a prua mettemmo a bollire il calderino del tè e ci recammo a poppa fingendo di non badargli affatto nell'atto che si preparava il resto è il solo mezzo sul fiume per far bollire il calderino se vede che aspettate che bolla e siete impaziente non si mette neanche a borbottare dovete allontanarvi e cominciare a mangiare come se non speraste affatto il tè non dovete neppure voltarvi a guardare allora tosto lo sentirete fervere e schizzare ansioso di ricevere il tè è un ottimo mezzo inoltre se avete fretta mettervi a conversare con gli amici dicendo che del tè non avete bisogno e che non lo volete vi avvicinate al calderino in modo che possa udirvi e dite io il tè non lo voglio e tu Giorgio al che Giorgio risponde ah no il tè non mi piace piglieremo una limonata il tè non si digerisce e a questo il calderino si mette a bollire e voi spegnete il fornello adottammo questo tratto di innocua malizia e il risultato fu che nel momento che tutto era pronto il tè aspettava allora accendemmo la lanterna e ci accovacciamo a cena avevamo bisogno di quella cena per lo spazio di 35 minuti non si udì altro suono per tutta la lunghezza e la larghezza della barca che quello delle posate e dei piatti e il continuo macinio di quattro serie di molari alla fine di 35 minuti Harris disse ah e cambiò di posto alla gamba destra che accavalciò sulla sinistra cinque minuti dopo Giorgio disse ah anche lui e gettò il suo piatto sulla riva e tre minuti dopo Montmoren si diede il primo segno di soddisfazione da quando eravamo partiti sdraiandosi a ciambella con le gambe stese e poi io dissi ah e ripiegai indietro la testa urtando contro uno degli archi ma non ci badai non bestemmiai neppure come uno si sente buono quando è sazio come soddisfatto di se stesso e del mondo molti sanno di poter affermare che la coscienza limpida forma la contentezza e la felicità dell'uomo ma lo stomaco pieno ci riesce allo stesso modo con più facilità e a più buon mercato uno si sente così disposto al perdono e così generoso dopo un pasto sostanzioso e ben digerito pieno di tanta nobiltà e di tanto cuore è stranissimo questo dominio del nostro intelletto da parte degli organi della digestione noi non possiamo lavorare non possiamo pensare se il nostro stomaco non vuole è lui che ci detta le passioni e le commozioni dopo le uova il prosciutto ci dice lavorate dopo la bistecca e la birra ci dice dormite dopo una tazza di tè due cucchiaini per ogni tazza e non lasciarlo stare più di tre minuti dice al cervello ora levati e mostra la tua forza si eloquente profondo e tenero guarda con occhio limpido nella natura e nella vita apri le candide ali del trepido pensiero e librati spirito divino sul mondo turbinoso al di sotto su per i lunghi sentieri delle stelle fiammeggianti fino alle porte dell'eternità dopo le ciambelle calde dice si ottuso e senza anima come una bestia dei campi un animale senza cervello con gli sguardi intontiti senza un raggio di fantasia di speranza di paura di amore o di vita e dopo l'acquavite tracannata in sufficiente quantità dice ora su matto soghigna e barcolla in modo che i tuoi simili possano ridere farnetica e barbuglia in suoni insensati e mostra che miserabile imbecille sia quel povero essere il cui spirito e la cui volontà sono annegati come amicini l'uno accanto all'altro in un paio di centimetri d'alcol noi siamo gli infelici schiavi del nostro stomaco lasciate andare la moralità e la giustizia amici miei vigilate accuratamente il vostro stomaco e alimentatelo con giudizio allora la virtù e la gioia vi regneranno in cuore senza alcuno sforzo da parte vostra e sarete buoni cittadini mariti affettuosi e teneri padri degli uomini nobili e pii prima di cena harris giorgio e io eravamo litigiosi mordenti e maldisposti dopo cena sedevamo sorridendoci radiosamente e sorridendo perfino al cane ci amavamo l'un l'altro e amavamo tutti harris con un movimento brusco pestò i calli di giorgio prima di cena giorgio avrebbe espresso dei desideri e degli auguri sul fatto di giorgio in questo mondo e nell'altro che avrebbero fatto rapprevidire un uomo timorato ma allora disse semplicemente ad agio caro il piede è padronale e harris invece di osservare nel suo tono più irritato come avrebbe fatto prima di cena che non era possibile muoversi anche a dieci metri lontano da giorgio senza camminargli sui piedi implicando con ciò che giorgio non doveva andare in una barca di dimensioni ordinarie con piedi di quella fatta se non voleva appenderli al di fuori disse oh mi dispiace caro spero di non averti fatto male e giorgio disse no niente non è colpa tua e harris osservò che infatti era sua una delizia a sentirli accendemmo tutti e tre la pipa e seduti guardando la calma notte conversammo giorgio domandò perché non dovessimo trovarci sempre così lontani dal mondo e dai suoi peccati e dalle sue tentazioni conducendo una vita sobria e tranquilla dedita tutta al vene io osservai che era proprio quello che avevo sempre desiderato per me e noi discutemmo la possibilità di andarcene noi quattro in qualche bell'isola deserta a vivere nei boschi harris disse che per quanto ne sapeva le isole deserte erano pericolose per la loro umidità ma non quando osservò giorgio erano prosciugate a modo e bonificate e allora parlammo di bonifiche di drenaggi e questo fece venire in mente a giorgio un aneddoto molto allegro che era accaduto una volta a suo padre suo padre egli raccontò viaggiava con un amico per il paese di galles e una sera essi sostarono in un alberghetto dove trovarono dei viaggiatori ai quali si unirono passando allegramente la sera si trattennero fino a tardi e allora di andare a letto essi il padre di giorgio a quel tempo era assai giovane erano abbastanza brilli presero la candela e si diressero di sopra la candela urtò contro il muro quando entrarono nella camera e si spense ed essi dovettero spogliarsi e andare a letto a tentoni ma invece di entrare in due letti separati come credevano s'arrampicarono senza saperlo sullo stesso letto il padre di giorgio con la testa a capo e l'altro con la testa in fondo e coi piedi sul guanciale vi fu silenzio per un momento e poi il padre di giorgio disse giovanni che c'è tommaso rispose la voce di giovanni dal punto opposto del letto sai v'è un'altra persona nel mio letto disse il padre di giorgio i piedi son qui sul mio guanciale è strano tommaso rispose l'altro ma mi pigli un accidente se anche nel mio letto non c'è un altro e che decisione prendi chiese il padre di giorgio io gli do una spinta e lo caccio fuori rispose giovanni anch'io disse il padre di giorgio coraggiosamente vi fu una vera lotta seguita da due sonori tonfi sul pavimento e poi una voce dogliosa disse ehi tommaso bene com'è andata ecco a dirti la verità il mio compagno ha cacciato me invece ha fatto così anche il mio non credo che sia un albergo raccomandabile questo e tu che ne dici qual era il nome di questo albergo disse herris il cervo bianco disse giorgio perché ah no non è lo stesso rispose herris che intendi chiese giorgio è curioso mormorò herris ma precisamente la stessa cosa capitò mio padre una volta in un alberghetto di campagna spesso egli raccontava questo fatto credevo che potesse essere lo stesso albergo noi ci mettemmo a letto alle dieci quella sera e io pensavo di dover dormir bene stanco come ero ma non fu così di regola mi spoglio poso la testa sul guanciale e poi qualcuno picchia la porta e grida che sono le otto e mezzo ma quella sera ogni cosa era contro di me la novità di tutto la durezza della barca l'atteggiamento rattratto stavo coi piedi sotto un sedile e la testa su un altro il suono dell'acqua che si frangeva contro la barca e il vento che stormiva fra i rami degli alberi mi facevano irrequieto e insonne mi addormentai per qualche ora e poi qualche parte della barca che sembrava fosse cresciuta durante la notte perché certo non c'era la partenza e la mattina scomparve continuava a forarmi la spina dorsale dormi un po su quella incognita parte sognando d'aver inghiottito una sterlina e che mi stavano facendo un buco nella schiena col trapano per tentare di recuperare la moneta mi parvi una cosa poco gentile e lo dissi a chi mi faceva l'operazione piuttosto sarei rimasto debitore della sterlina e l'avrei restituita alla fine del mese ma questa promessa non fu trovata soddisfacente era meglio averla subito perché non si accumulassero gli interessi ma dopo un po mi impazienti ed espressi tutta la mia indignazione ma infine il trapano mi inflisse un tale straziante strappo che mi svegliai l'aria della barca era affosa e la testa mi doleva così pensai di uscire fuori alla fresca aria notturna presi quegli abiti che potei trovare in giro un po dei miei un po di quelli di harris e strisciai di sotto la tela sulla sponda era una magnifica notte la luna era tramontata lasciando la terra silenziosa sola con le stelle sembrava come se nel silenzio e nel sopore mentre noi i suoi figliuoli dormivamo e se conversassero con lei loro sorella parlando di possenti misteri con voci troppo vaste e profonde perché le infantili orecchie umane potessero afferrarne il suono e se ci impongono riverenza queste strane stelle così fredde e così limpide noi siamo come fanciulli i cui piccoli piedi si sono smarriti nella penombra del tempio d'un dio che si sanno di dover adorare ma non conoscono e in piedi dove la cupola echeggiante stende la prospettiva della tenue luce guardano in su mezzo speranzosi mezzo timorosi di vedervi liberata una terribile visione eppure la notte sembra così piena di consolazione di forza nella sua augusta presenza i nostri piccoli dolori si dileguano vergognosi il giorno è stato così pieno di affanni e di cure i nostri cuori sono stati così pieni di male e di cattivi pensieri e il mondo ci è parso così crudele e falso allora la notte come una grande amorevole madre suavemente ci pone la mano alla fronte febbrile e attira a sé la nostra faccia lacrimosa sorridendoci e benché essa non parli sappiamo ciò che ci vuol dire e mettiamo la nostra guancia caldata contro il suo seno e la sofferenza è passata talvolta la nostra sofferenza è molto profonda e reale e noi stiamo dinanzi a lei silenziosi perché non abbiamo parole per esprimerla ma soltanto un gemito il cuore della notte è pieno di pietà per noi essa non può lenire il nostro male ci prende la mano nella sua e il piccolo mondo diventa assai piccolo e remoto al di sotto di noi e portati sulle sue buie ali passiamo per un momento innanzi a una presenza più augusta e nella meravigliosa luce della gran presenza tutta la vita umana ci sta dinanzi come un libro e noi sappiamo che la sofferenza e il dolore non sono che gli angeli della divinità solo quelli che hanno portato la corona della sofferenza possono reggere a quella luce meravigliosa ma essi quando ne ritornano non possono parlarne o narrare il mistero dal loro penetrato una volta in uno strano paese cavalcavano dei pii cavalieri e la loro strada s'adventrava in una foresta dove i rovi si intricavano fitti lacerando la carne di quanti vi passavano e le foglie degli alberi che crescevano nella foresta erano oscurissime e folte tanto che non un raggio di luce filtrava attraverso i rami ad attenuare la tenebra e la tristezza e mentre essi andavano fra quell'oscura foresta un cavaliere della schiera perdendo di vista i compagni vagò lontano e non li raggiunse più e questi gravemente ambasciati se andarono senza di lui piangendolo morto ora dopo che ebbero raggiunto il castello verso il quale erano diretti vi rimasero molti giorni in allegria e una notte mentre sedevano lietamente intorno ai ceppi accesi nella gran sala e bevevano una tazza fraterna ecco il compagno smarrito presentarsi a salutarle aveva gli abiti laceri come un mendicante e molte dolorose ferite aveva aperte nella dolce carne ma sulla faccia gli splendeva una gran luce di profonda letizia e lo interrogarono domandandogli ciò che gli fosse accaduto ed egli narrò come avesse smarrito la via nella foresta oscura e avesse vagato molti giorni e molte notti finché lacero e sanguinante si era abbandonato in terra a morire poi quando era quasi presso a morte ecco nella triste oscurità presentargli si una solenne donzella che l'aveva preso per mano e l'aveva condotto per difficili sentieri sconosciuti a tutti finché sul buio della foresta era albeggiata una luce di fronte alla quale la luce del giorno non era che un lumicino a paragone del sole e in quella stupenda luce lo spossato cavaliere aveva avuto come in sogno una visione e così mirabile così bella gli era parsa che non aveva pensato più alle sue ferite sanguinanti ed era rimasto come un ammaliato la cui gioia è profonda come il mare del quale nessuno può dire la profondità e la visione era svanita e il cavaliere inginocchiandosi in terra ringraziò il buon santo che gli aveva fatto smarrire la via nella profonda foresta scoprendogli la visione nascosta e il nome della buia foresta era dolore ma della visione goduta dal buon cavaliere noi non possiamo né parlare né narrare